trash a uomini e donne putiferio in studio protagonisti gianni sperti aurora tropea e gemma galgani maria sbotta caos e trash a uomini e donne durante la puntata del 14 settembre nello studio è scoppiato un putiferio protagonisti tanto per cambiare aurora tropea gemma galgani e gianni sperti ad un certo punto maria de filippi stufa di una serie di teatrini ridicoli è sbroccata con le due dame alzando la voce e stroncandole in modo netto e deciso tutto ha avuto inizio nel momento in cui la galgani accusato aurora di aver condiviso su instagram un post vergognoso di un utente il post non è stato mostrato ma si è compreso che a gemma è stato dato della poco di buono la tropea si è detta d'accordo sul fatto che il post fosse vergognoso assicurando però che lei non avesse nulla a che fare con quel messaggio sperti ha fatto alcune indagini sbugiardando aurora e sostenendo che sì quel post contro gemma lo aveva condiviso proprio lei apriti o cielo mi difendo dalle vostre calunnie gianni io ti querelo ti denuncio se mi calunni ti porto in tribunale ha tuonato aurora parla di una donna gemma come una poco di buono e vergognoso la replica disperti per un quarto d'ora ci sono stati scambi di accuse durissime in aggiunta è stato mostrato anche un video in cui si sono viste gemma e aurora litigare nel dietro le quinte di ued il fatto si è svolto al termine della precedente registrazione